E' una nuova mano? Fammi toccare Oggi apriremo un pacco che ci ha mandato Chica Boom E voi siete pronti? Si! Ragazzi su tutto il catalogo avrete un codice sconto Alphonse Dino 20 Col 20% di sconto su qualunque oggetto vogliate comprare Apriamo E come potete vedere c'è la nuova collezione La nuova collezione Elastic Corp Zombie Hind Come potete vedere Glow in the Dark Glow in the Dark e maxi formato Glow in the Dark Mi raccomando sono tutti da collezionare E si possono usare da bambini di 4 anni in poi Sono allungabili E si illuminano al buio Li proviamo? Si Apriamo 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 Ehi Mattia hai una nuova mano? Fammi toccare Apriamo quella di Alfonso Non si è aperto Vai riprova Si è aperto Apriamo Apriamo spacchettiamo Bellissima Si possono anche modificare Si possono allungare Mantieni Mi raccomando Mi raccomando Sul catalogo di Cicaboo O in elicola O nei migliori negozi Di giocattoli Apriamo questa gigante Questo è il formato grande Di 20 cm Spacchettiamo? Si Spacchettiamo Spacchettiamo Apriamo E tu ti da tirare 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 Tira la mano Tiriamo 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 E Wow E' più leggera Ragazzi Ora grazie a Cicabooom Possiamo diventare degli zombie E poi sono utili Per fare tanti scherzi Tipo Metterlo Nel pacco Delle merendine Mettere una mano Oppure nel frigo O nella doccia Prima che il vostro fratello Vostra sorella Vostra mamma Vostro padre Entri Per farsi la doccia Per questo è tutto Iscrivetevi Al canale Se ancora non siete iscritti E lasciate Un like Attivate la campanellina E Ciao